È l'anno di Tintoretto e una mostra a Venezia ricorda la sua grande altezza, la sua pittura che ha stregato i viaggiatori e soprattutto i poeti, i registi, tra Sette e Ottocento. De La Croix ha tratto i suoi neri dai neri di Tintoretto e Proust ha cercato di restituire nella sua prosa ipnotica il combattimento tra luci e ombre dei dipinti di Tintoretto. Lo ritroveremo quindi nei grandi teleri proposti per la mostra in una sequenza di scene in stretta connessione con il teatro. A questo rapporto tra Tintoretto e il teatro è dedicato questo incontro, cercando di mettere intorno a Tintoretto i suoi amici, i suoi collaboratori, i suoi suggeritori, ma anche i suoi nemici. Riprendiamo i percorsi d'arte con un incontro dedicato a uno dei pittori più amati del Cinquecento, anche se dalla sorte critica multiforme. Parlo di Jacopo Robusti, secondo altri Jacopo Comin, detto il Tintoretto dal nome della professione paterna. Pittore veneziano che non si mosse da Venezia, almeno con nessun viaggio documentato nella sua carriera artistica. L'incendio dell'archivio della parrocchia di San Polo ci ha privato del documento che testimoni della data di nascita di questo pittore. Così, fondandoci sulla data della sua morte e sulle affermazioni dei cronisti, possiamo far risalire, collocare la sua nascita tra il 1518 e il 1519. Venezia celebra nell'autunno del 1518, quindi la nascita di questo artista, con una mostra che poi si sposterà a Washington. Tintoretto è un pittore dalla produzione immensa e ben riconoscibile. Si fece aiutare, arrivato all'apice del successo, dai figli, dai numerosi collaboratori. Questo gli ha nuociuto presso alcuni critici, per esempio presso Roberto Lunghi, che riprendendo un vecchio pregiudizio lo considerò un pittore troppo facile, dalla vena eccessivamente disinvolta, rapida. Avendo Tintoretto un catalogo così ricco, ho cercato di scavare all'interno di una ampia bibliografia un argomento che mi fosse più consono. Impossibile parlare di tutte le sue opere, spesso con attribuzioni appunto a più mani. E mi è sembrato che il rapporto con il teatro di Tintoretto, argomento così importante, che coinvolge, come vedremo, l'editoria, il mondo religioso, fosse un argomento più adatto da presentare al pubblico. Tintoretto si rappresenta giovane in questo autoritratto, di cui abbiamo due versioni, una a Londra ed una a Filadelfia. Siamo a metà degli anni 30, fine anni 30, visto che della formazione di Tintoretto sappiamo veramente poco. Nonostante le biografie che si sono sommate, stratificate su di lui, la sua formazione resta un mistero e come di molti altri episodi della sua vita si sono appropriati poi i narratori del XIX secolo, fondandosi in buona parte sulla biografia seicentesca del Ridolfi. E uno degli episodi più noti diventerà quello di un tiziano geloso che trovando nella bottega dei disegni di un giovanissimo Tintoretto individua nel ragazzo un possibile rivale e caccia immediatamente Jacopo dalla bottega. Probabilmente un aneddoto, uno dei tanti aneddoti esemplari di cui la storia dell'arte deve in qualche modo riportare la trama pur diffidandone della verità storica. Forse Tintoretto ha cominciato dipingendo Cassoni, con una vena decisamente popolare. Questo suo dipingere tanto, con una fedeltà strenua al lavoro, anche non facendosi pagare o facendosi pagare molto poco, lo rende un personaggio diverso da amare ma nello stesso tempo di cui diffidare che lo metterà certamente in contrasto con quel tiziano vecellio di cui l'avarizia è diventata proverbiale. Guardiamo questo autoritratto. Sembra un giovane romantico, non a caso di Tintoretto si innamoreranno della Croix e appunto scrittori e artisti del romanticismo. Occhi brucianti e l'inconfondibile fondo nero, il nero di Tintoretto. È un nero che farà tanta strada, arriverà forse a Caravaggio, sicuramente a Rembrandt. E se questo è un autoritratto giovanile, il più straordinario certamente dei suoi autoritratti è però l'ultimo in cui lui si rappresenta in maniera inconsueta, frontalmente. D'abitudine gli autoritratti dovevano mostrare il fiato, l'energia vitale che sta all'interno dell'artista. Qui Tintoretto ci guarda negli occhi quasi a farci rimbalzare nella nostra anima i suoi dubbi, le sue incertezze. E con grande minuzia Tintoretto rappresenta qui i peli canuti della barba, le occhiaie, lo sguardo un po' lacrimoso. Si confronta a pieno sguardo con la realtà della vecchiaia, con quel ipsius che è rimasto leggibile in basso a destra. Diceva il filosofo russo Rosanov che ciascuno di noi ha un'età in cui è pienamente se stesso. E non è sempre la stessa età. Ci sono persone che sono se stesse da giovani, altre che hanno una maturità che poi va verso il declino. E ci sono persone che nella cosiddetta terza o quarta età diventano finalmente se stesse. Ecco, Tintoretto ha curiosamente rappresentato il mondo dei vecchi. E anche qui, visto che non abbiamo interviste rilasciate da Tintoretto. Qualcuno dice che ha rappresentato così la senescenza della Repubblica di Venezia, che stava comunque congedandosi da secoli di splendore. Altri sottolineano la dimensione stoica della vecchiaia. Guardate, il procuratore Soranzo con questa barba di nuovo splendente, di un biancore pieno di forza ancora e di dignità. Ma soprattutto l'incredibile vecchio del Kunsthistorisches Museum di Vienna, che non ha nome, non sappiamo chi sia. Però è un quadro speciale. Di lui ha parlato Thomas Bernard in un testo difficile, crudo, ma anche intensissimo, che si intitola Antichi Maestri. Il protagonista di questo testo resta trent'anni davanti a questo ritratto, cercando di sciogliere i quesiti che l'arte propone, guardando questo sguardo in tralice, studiandolo dettaglio per dettaglio. Ma anche dopo trent'anni l'enigma non si scioglie, la potenza di quello sguardo. I vecchi, la loro storia, l'esperienza, il cambiare della pelle. Sicuramente questo tema, De Senectute, sarebbe poi passato appunto a chi ha visto direttamente le opere di Tintoretto e a chi forse ne ha visto solo la traduzione in incisione. Tra i primi, cioè tra quelli che hanno frequentato la bottega di Tintoretto, vedendo le barbe, le chiome e nive dei suoi personaggi, c'era un Domenico Zeotocopulos, che passato poi in Spagna, diventerà noto con il nome di El Greco. I personaggi di Tintoretto si faranno ancora più scavati e spirituali, ma come si vede in questo ritratto cardinalizio, il rapporto tra Tintoretto e El Greco è palese, ben visibile. E questo ritratto di Tintoretto, che si trova alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, è forse il ritratto di vecchio più interessante per il nostro argomento. Anche qui, occhi un po' acquosi, lo sguardo distante, ormai separato dal gran movimento mondano. Lui, il personaggio rappresentato, seduto, si chiama Alvise Cornaro. È una di quelle figure dell'incredibile galleria di personaggi che ruotano intorno a Tintoretto. Alvise diventa famoso per un best seller che oggi avrebbe, forse, e ci hanno provato alcuni editori a rieditarlo, un grande successo. Un manuale su come condurre una vita lunga e arrivare ad una vecchiaia non solo serena, ma fertile, produttiva, con una ragione che abbia qualcosa di più rispetto allo zimos, all'anima brillante della giovinezza. Alvise Cornaro scrive, tra le altre cose, questo trattato sulla vita sobria. In netta antitesi con la visione edonista che aveva guidato una buona parte della storia del Cinquecento veneziano. Anche qui, abito scuro, fondo scuro. La vera vita consiste nel saper equilibrare la mente, l'anima, i sensi. Un signore interessante, questo Alvise Cornaro, che a Padova crea intorno a sé una cerchia di amici disparati, ma tutti estremamente vivi e penso in particolare a Ruzzante. A Padova Alvise fa costruire la loggia e l'odeon, che oggi chiamiamo loggia e l'odeon Cornaro, abbandonati per tanti secoli, sono stati di recente restaurati, e se ne è studiata l'iconografia. Gli storici dell'arte hanno potuto così confrontarsi con gli storici del teatro. Il teatro nel Medioevo era stato condannato dalla Chiesa. Esiste un famoso testo di Tertulliano che dice che il teatro è finzione e se già la vita è polvere, la finzione che rappresenta la vita è men che polvere, è inganno. E così, con un'ambiguità inevitabile, la Chiesa aveva fatto delle cerimonie, delle processioni, grandi eventi con una forte componente teatrale, ma da cui veniva escluso il racconto della trama. Agli inizi del Cinquecento, in questo gran fervore di ritrovo dell'antico, si rileggono Plauto, Terenzio e rinasce il teatro. Ma, e questo è argomento, secondo me, profondamente moderno, rinasce nelle corti, o per meglio dire nei cenacoli esclusivi. Come dice appunto Ludovico Zorzi, Alvise Cornaro invita i suoi amici, i suoi accoliti, ad assistere a rappresentazioni che devono rappresentare il mondo alla maniera dei testi finalmente godibili della commedia plautina. Sappiamo poco di questo teatro, sappiamo poco del teatro di Shakespeare, delle messe in scena sexperiane, ancora meno, naturalmente, di questi incunaboli della storia teatrale. Davanti a questa loggia, con l'odeo accanto, si tenevano delle rappresentazioni, quasi certamente con effetti luminotecnici, accendendo candele, fiaccole. Se le messe, le cerimonie sacre, le processioni dei flagellanti erano spettacoli per tutti, il teatro diventa qui momento di aggregazione di una classe che si sta formando e che sta cercando una sua identità culturale. per costruire questi due edifici che sono, come vi dicevo, i resti di un immenso naufragio, quanti teatri classici saranno stati costruiti tra Roma, Ferrara, nelle corti, Urbino, come aveva genialmente intuito Ronconi, cosa resta di questo mondo? Sappiamo veramente molto poco, però sappiamo che Cornaro chiama un architetto che si chiama Falconetto e che arriva da Mantova. Dobbiamo immaginare che i rapporti tra Venezia e la terraferma sono per tutto il XVI secolo rapporti insieme conflittuali ed evidentemente di collaborazione tra alcuni illuminati, come è appunto il caso del Cornaro. e, dicevo, il Falconetto viene da Mantova, Mantova, Igonzaga, una tradizione anche qui di palazzo come città, come luogo di rappresentazione. Ecco, questo che vedete, e so che è molto piccolo, ma spero sia chiaro, è un piccolissimo, da certo, ma preziosissimo. Ripeto, immaginiamoci come dovevano essere le messe in scena delle opere del Ruzzante, a metà del Cinquecento, quando non c'erano ancora evidentemente i nostri teatri stabili e bisognava passare dalle processioni medievali che avevano avuto comunque le famose mansiones, cioè dei piccoli piedistalli, dei piccoli edifici in cui simulare la via Crucis, ad una rappresentazione laica. Ecco, queste tre casette, ben identificabili come case venetiche, perché hanno il famoso camino a imbuto rovesciato, sono l'unico segno che abbiamo di come si mettesse in scena a metà del Cinquecento un testo nuovo come quello del Ruzzante, perché viene questo disegno da un codice che si trova nella biblioteca marciana di Venezia che reca il testo in cui è scritto il testo della Bettia del Ruzzante. La scena doveva essere così, la casa di Bettia, la casa del suo spasimante, la casa del rivale. Di che cose erano fatti questi edifici? Non lo sappiamo. Sappiamo che comincia però così una tradizione che a Venezia si identifica con alcune compagnie di aristocratici. La più celebre è la Compagnia della Calza, erano dei giovani nobili che si riconoscevano e qui vedete un dettaglio di un dipinto di Carpaccio per le brache colorate. Osano non mettere più in scena la salita al Calvario o le storie dei Santi, ma appunto ritrovare testi parodistici, pieni di verve, come la Ulularia, come i Menecmi, mentre a Padova, come vi dicevo, fiorisce il teatro di Ruggiante. Determinante per la nostra storia è il grande successo editoriale che ebbe il trattato del Serlio sull'architettura. Sebastiano Serlio scrive questo testo sull'architettura decorato da incisioni che sono diventate le prime testimonianze tangibili, visibili di come dovessero essere le scene auliche di corte della metà del Cinquecento. Siamo nel momento in cui la prospettiva cambia il modo di percepire lo spazio. Quindi, se prima il teatro era itinerante, adesso il teatro prevede un riguardante e un palcoscenico, un palcoscenico con un punto di fuga e la prospettiva diventa lo strumento fondamentale per l'identificazione tra chi guarda e chi agisce sulla scena. Queste scene fisse a cui probabilmente vanno collegate anche le celebri cosiddette città ideali, quella di Baltimora, quella di Berlino, quella di Urbino, guardatele bene con l'alternanza di pilastri tuscanici, di logge, di obelischi, con l'arco al termine e la statua di evocazione classica sul frontone, perché ritroveremo queste architetture nei fondi di Tintoretto che sicuramente conosceva, lo abbiamo detto, Alvise Cornaro. Tragedia, commedia, Serlio osa mettere sulle pagine di un prezioso libro a stampa i requisiti richiesti da una scena. qui dovete immaginarvi gli attori che entrano ed escono, ma pensate anche che queste scene dovevano essere fisse e questa storia così condensata inevitabilmente del teatro cinquecentesco porterà, lo vedremo, alle novità palladiane. Qui vi faccio vedere un curioso ritratto perché se dovessi essere veramente profonda e completa come non è dato ai me, nemmeno ai docenti di essere fino in fondo, dovrei parlarvi della complessità biografica di questi personaggi che avevano delle vite al cui confronto noi siamo dei piccoli giocattoli abbandonati in un angolo. Questo signore per esempio noto come il cieco d'Adria diventa attore ma è anche musico e scrittore e come attore interpreta forse Edipo forse Tiresia entrambi personaggi non vedenti del teatro classico nel Edipo Re con cui viene inaugurato il Teatro Olimpico di Vicenza nel 1585. Ritorna trionfalmente l'idea del teatro che arriverà poi al finire del XVI secolo alla gran visione shakespeariana del mondo come teatro e del teatro come mondo. Eccezionalmente conservato il teatro olimpico nasce non dobbiamo dimenticarlo da un'accademia l'accademia degli olimpici appunto e come vi dicevo Tintoretto è sicuramente integrato in questi cenacoli che vedono insieme archeologi cardinali scrittori musici attori finalmente promossi dal ruolo di buffoni di corte ad interpreti e mediatori una straordinaria storia che ha come fondamento il grande sogno dell'antico ormai è diventato così banale così sterilmente ripetuto il nuovo umanesimo aspettiamo un nuovo rinascimento in realtà abbiamo così così poco rapporto con l'antichità la sentiamo così distante e invece con che entusiasmo con che calore con che in medesimazione biografica questa generazione del sedicesimo secolo si innamora dell'antico e Venezia non aveva antichità classiche ha una storia così speciale Venezia nata in mezzo alle paludi i profughi di Altino e di Aquileia non avevano certo potuto portare con loro né marmi né lapidi né statue quando si erano trasferiti a Rialto dando origine a quella che sarebbe stata la Serenissima e proprio questa mancanza di un passato classico diventa nel sedicesimo secolo a Venezia una lacuna da colmare e anche qui figure che io ritengo fondamentali per la nostra storia perché ciascuno di noi attinge anche non volendolo o anche coltivando l'ignoranza più esibita a quello che loro hanno cercato quello che loro hanno vissuto figure come il cardinal Domenico Grimani che vuole portare a Venezia delle statue classiche e fra le altre porterà a Venezia in un palazzo meraviglioso di cui fra breve vi farò vedere una immagine una collezione di marmi antichi fra l'altro questa testa cosiddetta dell'imperatore Vitellio per noi una delle tante teste antiche quelle che vediamo a migliaia nei musei italiani e non solo italiano più o meno importanti ma in una città come Venezia che aveva avuto fondi oro per secoli e figure rigorosamente bidimensionali e che non conosceva il marmo se non come qualcosa di misterioso e di lontano l'arrivo di queste figure a tutto tondo tridimensionali doveva essere emozionante e infatti Tintoretto disegna e disegna a più riprese anche la testa di Vitellio io non farò non potrò parlarvi non solo di tutta l'opera pittorica di Tintoretto ma tanto meno della sua pur importantissima parte grafica però il disegno è per Tintoretto essenziale perché Tintoretto si trova a crescere in una Venezia che vede arrivare da Firenze e soprattutto da Roma degli artisti che si portano dietro le scoperte michelangiolesche la scuola michelangiolesca e quindi essenzialmente il disegno Venezia era sempre stata molto sul chivalà rispetto alla tradizione figurativa di Firenze e di Roma ma quando dopo il sacco di Roma del 1527 tanti artisti ma anche intellettuali arrivano a Venezia il confronto diventa inevitabile bella la tradizione di Bellini di Giorgione del primo grande Tiziano ma quei disegni quelle incisioni provenienti dalle tombe medice di Michelangelo quanto fascino dovevano avere ecco questi disegni sono straordinari e ne approfitto per dirvi che è solo la nostra banalità la nostra cecità che ci fa amare i quadri e guardare con fretta e trascuratezza i disegni i disegni che proprio per Michelangelo e per i fiorentini sono invece il momento in cui l'idea diventa figura ed ecco che l'imperatore Viteglio che abbiamo visto nella sua algida versione marmorea sotto la mano di Tintoretto diventa carne e soprattutto riflessivo per farvi capire in sintesi una situazione meravigliosa di studio di passioni di amori di ricerche sociali politiche vi faccio vedere questa immagine che curiosamente non è tra le più note di Venezia presso Santa Maria Formosa che è pure splendida chiesa veneziana sta il palazzo Grimani dove abitò appunto quel Domenico Grimani collezionista di marmi antichi di cui vi ho detto poco fa il palazzo è stato riaperto al pubblico ormai quasi dieci anni fa ma non direi che è spesso inserito negli itinerari veneziani io credo perché è un'isola di arte centro-italiana e per i turisti di un giorno per i turisti che vengono a Venezia per godere l'atmosfera veneziana in poche ore e poi ripartire trovare tracce di Firenze e di Roma a Venezia è disturbante e così in una Venezia sovraffollata la Venezia dei tornelli credo che ci sia ancora la possibilità di girare quasi soli per le auliche stanze di Palazzo Grimani di cui qui vedete una volta cassettonata che termina con questo scenografico calco derivato da un gruppo ellenistico del ratto di Ganimede un vero e proprio trucco direi persino più che teatrale direi veramente cinematografico quando Vittorio Sgarbi ha curato il catalogo della mostra di Tintoretto tenutasi qualche anno fa alle scuderie del Quirinale ha più volte usato questo termine che può sembrare audace alla vecchia scuola ma pensate e lo vedremo che i curatori della mostra sul giovane Tintoretto tenuta al Palais di Luxembourg non molto tempo fa paragonano i colpi di scena dei dipinti di Tintoretto alle architetture dei videogiochi forse senza eccedere nel bisogno di contemporaneità che ci contraddistingue io credo che sia importante comunque cogliere lo studio profondo sulla percezione che questi anni hanno condotto e quando si parla di Toscani a Venezia non si può naturalmente non parlare del terribile Aretino il linguacciuto Aretino che seppe tenere insieme tutta tutta la combriccola di appunto collezionisti pittori un vero factotum antipatico forse un po' cinico ma che grazie al cielo ha scritto molto e che quindi dobbiamo per forza usare come testimone della Venezia del tempo qui lo vediamo in un famosissimo ritratto che gli fece Tiziano Tiziano che fu il suo beniamino e Aretino lo aiutò a costruire una spettacolare carriera Tiziano all'epoca della giovinezza di Tintoretto era già il pittore delle corti ma delle corti europee quindi Carlo V Filippo II Aretino parla bene di Tintoretto ma sempre con quella leggera acidità quella ambiguità che a me profondamente romantica come dico spesso fa in qualche modo un po' orrore Aretino dice sì bravo Tintoretto eccezionale ma se fosse un po' meno veloce nell'esecuzione se ci pensasse un po' di più di di queste maldicenze dell'Aretino si occuperà il XIX secolo Engel per esempio farà un dipinto in cui si vedono Tintoretto ed Aretino litigare nell'atelier del pittore certo intorno ad Aretino si muoveva il mondo soprattutto dei profughi quelli arrivati a Venezia portando la loro competenza cresciuta nel centro Italia fra gli altri Jacopo Sansovino Francesco Salviati lo stesso Giorgio Vasari anche lui importantissimo per gli storici dell'arte ma famoso pettegolo e malalingua Aretino lo sappiamo ha scritto facezie e sonetti lussuriosi d'altra parte sono anche gli anni del più celebre poeta proibito letto peraltro un po' in tutti i secoli a seguire che è stato Dorgio Baffo e che il teatro di Tintoretto quel teatro che Tintoretto doveva vedere a cui doveva contribuire mettesse in scena anche facezie e fabelle erotiche lo mostra questo famoso dipinto di Tintoretto che si trova a Monaco e che è uno dei dipinti più piccanti di quel tardo cinquecento che non va dimenticato è anche il periodo della controriforma Tintoretto racconta un famoso adulterio Venere tradisce Vulcano che lavora troppo che fatica nella sua fucina con un dio più aitante e se Dio vuole si spera meno occupato cioè Marte il dio della guerra Marte è entrato nel sacrario della Camera di Venere e i due hanno fatto l'amore ma qualcuno fa la spia presso il marito Cornuto e Vulcano torna inatteso e controlla pover uomo l'epudenda della moglie infedele intanto Marte che non ha avuto il tempo di scappare si nasconde sotto il letto e un canino che vedete ai piedi del letto di Venere abbaia svelandone il nascondiglio dorme amore in una culla sotto la finestra dai vetri piombati scenetta grassoccia che ancora oggi fa dar di gomito ai visitatori dell'alte pinacotec di Monaco figuriamoci a quei veneziani che conoscevano le bellezze e lodavano la fisicità la carnalità delle cortigiane e qui vedete non solo l'amenità del soggetto ma tutta una serie di citazioni che fanno ancora una volta pensare all'attenzione teatrale che Tintoretto rivolge nella sua pittura guardate quel vaso trasparente sul davanzale della finestra è Serlio a consigliare di utilizzare sulla scena questi punti luce che danno credibilità all'insieme e aiutano ad illuminare e poi guardate il famoso specchio circolare che riflette l'eterga di Vulcano in modo da dare alla pittura un effetto di tridimensionalità